Siamo usciti con la pubblicità di quest'anno, con il calendario, e c'erano Martello e Valena sulla locandina, qualcuno ci ha detto, ah beh, siete coraggiosi ad invitarli, e hanno detto perché coraggiosi? Invitate la concorrenza. Noi ci teniamo a dire, siamo stra felici di averli qui, che nel tanto la concorrenza non ci dovrebbe essere a prescindere, ma soprattutto la condivisione, la prima cosa per cui in questa sera fecchiamo così tanti, come lo siamo ogni vera lì per il nostro rossone, facciamo il possibile per portarvi parola internazionale di DJ, di artisti, e quindi loro per noi lo sono, fanno parte degli artisti giovani, bravi, talentosi che arrivano in Italia, e quindi siamo stra felici di avere, a dos corazioni, tango, accademia, Matteo Alperietti e Romeno Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.